Ciaia stava allenando molto bene, Mutir e Simo hanno giocato molto bene il sabato, Patrick sta bene, sta carico e per questo abbiamo iniziato così. È stato difficile, è stato un infortunio che mi ha segnato comunque, è stato veramente difficile da digerire anche perché ho fatto 35-40 giorni che proprio non potevo allenarmi, è stato complicato perché non è mai successo di stare fermo così tanto tempo e poi rientrare comunque non è stato facile, però adesso cerchiamo di guardare lontano da quell'infortunio. Nelio Nelio È stata una partita che penso che noi abbiamo iniziato molto molto bene, penso che durante 20 minuti all'inizio si è visto una squadra che mi è piaciuto molto, che ha capito molto bene la partita, l'espazio dove era e lo che si doveva fare. Dopo abbiamo iniziato a perdere un po' la struttura al nostro costato destro. Grazie a tutti. Iovi non poteva giocare perché già si sapeva che lui ritornava da un infortunio e giocare due partite di fila magari fea un po' di fatica. A me piace questo tipo di giocatore. Per me è stato un periodo veramente difficile e buio. Adesso sto provando ad uscirne, sia fisicamente che con il lavoro in campo. Oggi ci sono stato molto contento di aver fatto i primi 10 minuti da un lontano 22 agosto in casa. Sono molto contento che i tifosi comunque hanno apprezzato il mio ritorno in campo. Io penso che il problema di Alberto in questo momento è la fiducia. L'ho parlato con lui ieri. È stato senza giocare tantissimo tempo, senza allenarsi. Ha avuto un infortunio importante. Adesso è solo mettersi in campo, iniziare a giocare, prendere il suo ritmo, il suo momento, la sua fiducia. Però ho sicuro che sarà importante. Il caso ha voluto che Iovi dopo tre secondi mi ha detto che mi sono fatto male. Quindi ho detto che adesso siamo anche in meno. Magari non riusciamo a spingere come le occasioni che potevamo avere prima. Abbiamo provato comunque a portarla a casa. Sempre si vuole vincere. Quando non si vince non sono contento. Però sì che è vero che alla fine quando Iovi si ha fatto male, noi con tre attaccanti, se non si può vincere almeno non perderla. Allora per questo sì che sono contento della mentalità del giocatore, però anche potevamo avere gestionato la partita un po' più meglio alla fine. Globalmente penso che è una partita che si deve vincere.